Trovo splendida l'idea perché il nostro settore è uno dei più innovativi nel mondo del design perché oltre a risolvere i problemi estetici deve risolvere tante altre esigenze oggi di ecologia ma anche a fascia maletti perché sta affrontando veramente i problemi veri del nostro settore, i rumori, l'acqua, l'elettricità, cercando di dare risposte che vanno nella direzione giusta, nella direzione ecologica e quindi nel rispetto dell'ambiente. Coniugare l'estetica, la grande voglia di design, di contemporaneità, di evoluzione ai bisogni veri del pianeta e trovo sia una bella sfida e un grazie all'amaletti. Noi in questa giornata supportiamo l'amaletti che a mio avviso ha avuto un'idea geniale quella di partecipare al Salone del Mobile con gli arredi creati per parrucchieri proprio perché il designer sposa benissimo con quella che è la nostra professione, quella che è la nostra attività. Noi siamo portatori di bellezza direi a tutto tondo, non possiamo fermarci solo ai capelli. I capelli è la nostra costa principale, è ovvio che ci occupiamo principalmente di quello ma per far sì che tutto sia più bello dobbiamo avere dei bei saloni, dobbiamo avere dei belli arredi e in questo trovo che l'amaletti sia sempre all'avanguardia. In questo luogo ha creato un salone, il salone Allure Green della linea ecosostenibile che noi abbiamo già sposato nella nostra attività, nel nostro salone sede che è l'atelier Serretti a Pisa e qui lo ha riproposto creando un salone live dove noi partecipiamo a renderlo appunto vivo. Il nostro lavoro, i nostri stilisti lavorano da stamattina, fanno ciò che fanno tutti i giorni nei negozi avendo come clientela tutti i visitatori di questo luogo e sono i giornalisti che sono architetti, designer e quant'altro.